Per Rebecca, più volte ho provato a dirti qualche parola in più ma non riesco proprio e lo faccio solo con le persone che sotto sotto un po' mi interessano. Mi piacerebbe conoscerti di più perché sento che hai tanto vissuto e hai cose interessanti da raccontare. Perché tu odora a ridi? So io, no. Chi è? Guarda che fanno tutti aspira. Indicano Nicolò, non sei tu? Indicano Trigno, non sei tu? Palese Ilan, è Palese Ilan. Chi è? Palese. Vorrei rimanere all'anonimato lui. Ma non è che vibes, no? No, no. Niente, rimane così anonimo? Grazie.